Intanto ricorda il discorso del passatore cortese che passava per le case. Ma a Ravenna non vada. Ma a Ravenna è strano però che non vada. Cioè io non lo conosco. Tutto un gruppo di Ravenna, lei, anche lei ha un'altra famiglia, non conosco un po' altro. Strano. Tutte le canzoni strane. Sì, ma soprattutto le canzoni romagnoli che cerchiamo di fare in modo che la gente conosca. La tradizione è che ancora più che noi si sente. Ieri abbiamo fatto alcune frasture di Sassi, ma sono i personi uffiani che si commuovevano tutte, piangevano tutte. Poi se non entri in casa, che non ti affettano un salano, non ti danno da bere, si offendono. Gran bella cosa comunque. Sì, è bello perché si riportano un po' in vita le vecchie tradizioni. Fortuna che c'è qualcuno che mantiene. Noi abbiamo anche i bambini che vengono su, bei ricarichi. Però sono più belli i signorotti così, un po' pacciosi. Perché ricordano più. Danno più spirito. Grazie. Grazie, grazie.